Siamo coinvolti perché c'era la necessità da parte di qualcuno di coinvolgerci, è evidente che è solo propaganda elettorale, è una strumentalizzazione finalizzata alla campagna elettorale, è una situazione che praticamente il fatto non esiste, non riguarda assolutamente lo spazio grizzly, siamo stati tirati in mezzo come più volte succede da qualche componente politica che gli serve trovare la polemica su cui mangiare a livello elettorale. È una cosa di dieci giorni fa che esce puntualmente in maniera proprio studiata nella settimana del ballottaggio, una settimana di ballottaggio che non ci riguarda, non ci interessa, però siamo strumento utile alla campagna elettorale di qualcuno, chiaramente noi ci sottraiamo e rilanciamo tranquillamente le nostre attività senza cogliere questo tipo di provocazioni che non ci interessano, il fatto non esiste per quello che riguarda il grizzly. Le persone, la persona in particolare che ci ha attaccato, come dire, se uno va a vedere i suoi profili Facebook è un amante, voglio dire, del nazismo, lo rivendica tranquillamente, quindi dopo una persona di questo modo, fatta a questo modo, che ci dice che scrive che il giorno della memoria per lui è un giorno di lutto, il 27 gennaio, quando una persona di questo tipo, come dire, che costruisce busti di Mussolini, penso che, come dire, guardare anche un po' a che tipo di persona è, prima di dare tutto per buono e per scontato quello che dice, che noi l'abbiamo minacciato, che noi abbiamo scritto cose contro di lui, a cercare di trovare una polemica sterile dove noi veniamo tirati in mezzo, come è stato detto, per altri fini. La pagina vostra è una pagina aperta, chiunque può andare sopra e cliccarci e esprimere quello che ritiene opportuno. Qualunque persona può venire lì a commentare, a dire la sua, ma, come dire, a noi ci interessa il fatto che è stato preso per buono e per vero, soprattutto nel mondo dei Facebook, è inutile poi fare tanti convegni, come dire, sulle fake news, sulle bufale, stampa come bastione della democrazia, se poi invece in realtà anche piccolissime cose, piccolissimi accorgimenti, soprattutto nel mondo di Facebook, cioè che ci sono di tutto e di più e si leggono anche cose veramente di cui bisognerebbe vergognarsi, che vanno molto oltre la querela, ma che hanno a che fare con l'etica. Quando si parla di queste cose qui bisognerebbe avere due occhi di attenzione rispetto a queste cose, non prendere tutto per buono e per vero, sempre per una polemica politica, però nel frattempo noi siamo stati tirati in mezzo, siamo stati infamati, siamo stati, come dire, in prima pagina, ci sono state dette cose che non sono vere, senza mai darci, a parte in questo caso, un diritto di replica che penso che sia sacrosanto.